Thor Love and Thunder, parliamo dell'ennesimo film Marvel Cinematic Universe che è da ieri nelle sale cinematografiche. Secondo. Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica film in uscita e nella rubrica Marvel, Marvel Cinematic Universe, in questo caso MCU. Parliamo di Thor Love and Thunder, quarto capitolo per il dio del tuono dopo Thor Ragnarok, Thor Dark World e semplicemente Thor, a 10 anni di distanza, anzi 11 anni di distanza dal primo film. Ho appena finito di scrivere la recensione e già stanno fioccando recensioni totalmente diametralmente opposte. Come la penso io? Io penso che se vai a vedere Thor Love and Thunder dopo che hai visto e sai com'è Taika Waititi con Ragnarok, non ti puoi aspettare Shakespeare. Detto ciò, il film io l'ho gradito, è stato appassionante, intrattenente, è pieno, pieno zeppo di incongruenze, ne parliamo adesso anche insieme, però devo dire che ho fruito il film esattamente per quello che era. A differenza, per esempio, di Doctor Strange and the Multiverse of Madness, dove onestamente io mi aspettavo da remi e dai collegamenti con il Marvel Cinematic Universe medesimo un pochino più grandi, più approfonditi. Non che mi aspettassi dei camei perché non me ne fregavo un cazzo, però ecco, pensavo che comunque avrebbero approfittato molto di più del discorso multiversale per aggiustare il tiro su alcune cosette che invece non hanno fatto, hanno fatto un film a metà tra il multiverso e un film autoriale e a me, non lo so, non è piaciuto molto. Questo è un cinepanettone? È un cinecomics panettone? Sì, ero consapevole di andare a vedere questo? Sì, sono stato accontentato? Sì, devo dire, mi è piaciuto più di Thor Ragnarok. Questo anche perché, se mi seguite lo sapete, Thor Ragnarok è il film che ha una prima visione, è stato quello che ho apprezzato di meno, è stato quello che più mi ha destabilizzato, ma è anche l'unico film che riguardo più volentieri. Quando non ho nulla da fare in casa, scusate, quando non ho nulla da fare, sto facendo delle cose in casa e voglio mettere qualcosa in sottofondo, se devo scegliere un film di Thor, metto Thor Ragnarok perché quantomeno è colorato, ci sono degli scontri, si può seguire in modo molto fruibile, a differenza degli altri due che sono comunque una palla, detto proprio banalmente. Credo che questo Thor Lovend Thunder sarà anche lui uno di quei film che potrò rivedere tranquillamente con simpatia. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace, un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che amano i tuoni e l'amore e di commentare qui sotto con quello che ve ne è farso di questo film, di questo video, se avevate aspettative alte, se avevate aspettative basse, se vi è soddisfatto o se vi aspettavate di andare a vedere l'ennesima commedia shakespeariana dal Marvel Cinematic Universe e siete rimasti delusi. Ragazzi, la recensione sarà abbastanza spoilerosa, però gradualmente, nel senso che cercherò di raccontare un pochino il film in maniera in cui si svolgono i fatti del film, ma ne dovrò anche narrare alcune parti spoiler per spiegare meglio alcuni concetti. Quindi, se non volete spoiler in maniera più assoluta, non guardate questo video, tornate assolutamente a vederlo dopo che avete visto il film, altrimenti, se non avete problemi di spoiler o se avete già visto il film, chiaramente possiamo continuare insieme questo magico viaggio. Era abbastanza ovvio anche dal trailer che la parte guardiani della galassia fosse quella iniziale, proprio perché appunto avevamo lasciato Thor sulla nave dei guardiani della galassia alla fine di Endgame e lo vediamo esattamente qua all'inizio. Devo dire che, se mi aspettavo i primi dieci minuti così, in realtà sono ancora meno del previsto, sono circa due minuti percepiti, quantomeno, di questo periodo con i guardiani della galassia, che sono tapezzeria, sono sfondo assolutamente, non si vedono per nulla. Hanno usato quasi di più Rocket, che è un personaggio in CGI, che non, non lo so, Nebula o Drax, dove hanno dovuto impegnare gli attori con make-up e presenza scenica. Però, vabbè, ci sta, perché comunque questo è il film di Thor, assolutamente. Tutto questo, mescolato anche alla parte narrata da Korg, perché tutta questa prima parte, soprattutto la parte in cui vediamo anche nel trailer Thor, si allena per riprendere il suo peso-forma da Dio, è tutta in questi cinque minuti. E, onestamente, io, soprattutto a quella parte gli avrei dato un pochino più peso durante il film, cioè almeno il primo quarto d'ora glielo avrei dedicato, perché era comunque una parte importante del suo percorso, questo suo meltdown, inteso anche dal punto di vista psicologico. Però ci sta, va benissimo così. Il film, fortunatamente, è due ore e basta, non è un film da sequestro di persona come durata, e quindi ci sta che sia tutto un po' schiacciato da questo punto di vista. Doctor Strange insegna. In questi tipi di film non ha senso imperversare per due ore e mezza, tre ore, quando il contenuto è così cacciarone. Anche perché c'è davvero, davvero tanta carne al fuoco. Purtroppo non spiegano assolutamente perché Thor non abbia più l'eterocromia, anche se molto probabilmente in questi anni tra Endgame e il viaggio con i Guardiani della Galassia, Rocket probabilmente gli avrà procurato un occhio finto del medesimo colore dell'altro. Però ecco, sarebbe stato gradito e carino che lo avessero menzionato, anche se non si sono ovviamente dimenticati di quello che è successo in Ragnarok, perché porta ancora la ferita all'occhio. Quindi va da sé che molto probabilmente ha semplicemente cambiato protesi. Taika Waititi, o se vogliamo gli sceneggiatori, si fanno un po' perdonare tutte le grandi assenze di Thor Ragnarok, che rendevano quella pellicola distaccata dalle altre, non solo appunto anche per il genere, per il contenuto, per il tono rispetto agli altri due film, ma anche per l'assenza di attori fondamentali, come appunto Jane Foster, Eric Selvig, Darcy, tutto un po' la parte terrestre che ci ha accompagnato nei primi due film, e anche Lady Sif, che non fa parte della parte terrestre, ma era assente in Thor Ragnarok e la sua assenza si è sentita parecchio. Qua rimediano facendo fare dei piccoli cameo a tutti questi personaggi, quindi ovviamente c'è Jane Foster, l'abbiamo visto anche nel trailer, nei poster, e sappiamo benissimo il ruolo che ha, ma danno un piccolissimo cameo anche a Darcy, a Eric Selvig e a Lady Sif, è piccolissimo, ma per me è stato essenziale per ricongiungere, diciamo, questo quarto capitolo ai primi due, e devo dire che da questo punto di vista mi ha soddisfatto anche di più il Ragnarok, francamente l'avrei voluto anche il Ragnarok, onestamente, ma onestamente non avrei voluto un quarto film, quindi va bene così, diciamo che hanno un pochino aggiustato il tiro. Tornano anche i teatranti asgardiani, quelli interpretati da il fratello di Chris Hemsworth, da Matt Damon, e in questo caso si aggiungono altri attori di alto calibro per fare una parte così stupida, come Sam Neill, ovvero l'Alan Grant di Jurassic Park, e anche Melissa McCarthy nella parte di Hela. È stato esilarante vedere questa recitazione sopra le righe da parte di questi teatranti, sopra le righe proprio da recitazione teatrale e amatoriale, il che serve, penso dal punto di vista del regista, serve per spiegare un po' ai bambini che dieci anni fa non erano manco nati e adesso sono fan dell'MCU, o magari allo spettatore casuale, o allo spettatore che ha una memoria iedetica al pari di Synergo per quanto riguarda i film dell'MCU, scusa Synergo ti ammiro tantissimo, però non hai tanta memoria, serve un pochino a spiegare cosa è successo nei precedenti film, però la cosa buffa è che questa recitazione amatoriale e sopra le righe dovrebbe un attimino prendere in giro il pathos e l'epicità dei film precedenti, della recitazione reale degli attori. Peccato che la recitazione reale degli attori in questo film sia al pari di quella dei teatranti asgardiani, quindi non capisco bene cosa vogliono prendere in giro. Tutti gli attori principali mi sembrano assolutamente fuori tono, o meglio, Chris Hemsworth ormai è appurato che il suo Thor è un cazzone con lo stampino, però comunque quella è la sua dimensione attoriale, gli riesce bene, lo continuano a... lo continua a farlo in questo modo. Mentre Natalie Portman quando non recita le parti in cui appunto deve star male, deve esprimere una sofferenza, di conseguenza deve avere una recitazione più terrena, più diciamo normale, dove lì è nella sua dimensione, quando invece deve fare la divinità, lei cerca di fare una terrestre che tutto un tratto sia ritrovata un potere divino e quindi è volutamente goffa, ma il risultato è che sembra sopra le righe, sembra che voglia essere comica come Hemsworth, ma senza riuscirci, e questo è davvero brutto perché Natalie Portman è un'attrice bravissima, però non ha assolutamente azzeccato quello che voleva fare o se l'ha azzeccato, ragazzi, orrendo, cioè se questo era l'obiettivo, probabilmente si è accorta veramente del livello del film, ha detto, ma sì io recito a cazzo dei cane, che tanto mi pagano lo stesso, Chris Hemsworth fa il coglione, lo faccio anch'io, non mi riesce, chi se ne frega, è una prova d'attore, fa curriculum, vaffanculo, cioè io credo proprio l'abbia buttata così Natalie Portman e credo anche che abbia accettato questo ruolo proprio perché le hanno scritto nel copione che sarebbe stato l'ultimo film, mentre anche Tessa Thompson, Valkyria, se nell'ultimo film Ragnarok mi sembrava molto in parte, qua invece sembra proprio che butti via le battute, sembra proprio che ha anche una parte minore, è vero, però sembra proprio che anche lei non gliene freghi un cazzo, lei non è sopra le righe, lei è sotto le righe, proprio non... tutto quello che dice sembra che lo dica così, sì, basta, ho detto la battuta, andiamo avanti, chi se ne frega. Questa cosa l'ho percepita tantissimo dai tre attori principali che dovrebbero reggere il film. Su tutti questi, Christian Bale, il villain della pellicola, insegna recitazione a tutti quanti. Christian Bale, che è come ruolo quello di un cattivo, che anche lui ha assunto dei poteri divini che lo stanno corrompendo e quindi la sua recitazione dovrebbe essere quella più sopra le righe di tutti, quindi si potrebbe permettere di avere una recitazione più sopra le righe rispetto agli altri. Lui ha comunque una recitazione volutamente sopra le righe, soprattutto in alcuni punti, quando vuole essere crudele, quando si vede che non è il gore dell'inizio, ma il gore che è stato corrotto da anni e anni di... che ha brandito la spada, della necrospada, ma ciononostante è comunque più credibile di Natalie Portman, di Tessa Thompson e di Chris Hemsworth. Quindi chapeau, come sempre, a Christian Bale, che è riuscito a... in questo piccolo ruolo, perché non è che si vede tantissimo, a fare comunque una grande performance. Per certi versi è un film che non va a collegarsi molto ad altre pellicole dell'MCU, più del necessario. Ovviamente tutto quello che è legato alla storia di Thor e a quello che abbiamo visto in Endgame ha i suoi strascichi in questo film. Però non ci sono quelle citazioni cazzute a caso, come si pensava, come si vociferava. Ah, Jane Foster ha il cancro perché è stata blippata e tutti quelli che sono tornati con il blip iniziano ad avere delle malattie e Jane Foster ha il cancro. Nulla di tutto ciò, assolutamente, fortunatamente, perché sennò davvero non ne saremmo più usciti. Jane Foster semplicemente ha il cancro, ha una malattia molto, molto terrena in un film molto, molto ultraterreno. Un problema reale ancorato con i piedi per terra alla realtà in un contesto fantasy e fantascientifico che è lo stilema base di una qualunque storia Marvel a fumetti. Supereroi con super problemi. Questa cosa mi è piaciuta molto. Potevano trattarla meglio, sicuramente, se si fossero focalizzati solo su questo, ma hanno voluto tirare in ballo mille altre cose. Tra queste mille altre cose vengono introdotti mille nuovi concetti semplicemente perché sì, semplicemente perché sennò la trama non va avanti. Per esempio, su tutti, il concerto, il concerto, il concetto di eternità. Questo strano, non lo so, pianeta, questo punto al centro dell'universo dove chi lo raggiunge può esprimere un desiderio tipo Sfere del Drago o Super Sfere del Drago esprimere un desiderio qualunque, un desiderio enorme come sterminare tutti gli dèi nell'universo e può essere accontentato. Ma perché? Ma da quando? Ma chi l'ha detto? E soprattutto lo dicono a metà del film e quando Zeus lo dice, perché a Zeus che ha affidato il compito di tirare fuori eternità, Tessa Thompson, Valkyrie, dice oh no, allora è quello che vuole fare Gore. Ma perché? Ma solo perché lo avete supposto non dovrebbe essere assolutamente quello il motivo? Non ha un senso tutto questo. Lo sopporto perché il film come ho detto è comunque un cinepanettone della Marvel. Però comunque ma perché? E poi perché tirare fuori questa cosa? Se questa cosa è sempre esistita dal momento che si chiama eternità, perché Thanos non ne sapeva nulla? Perché Thanos invece di cercare le sei gemme dell'infinito non è andato a eternità a esprimere che metà dell'universo fosse decimato o che il doppio delle risorse potevano essere cioè insomma non ha senso che esista eternità adesso e che sia sempre esistita e poi chi impedirà da adesso in poi di utilizzare eternità come Deus Ex Machina per risolvere i problemi? Ora non voglio nemmeno pensare che qualche fanboy dica fate risorgere Robert Downey Jr. con eternità spero proprio di no ma anche le cose magari più grosse più importanti cioè cosa impedisce a una eroina super potenziata come Captain Marvel di volare al centro dell'universo e esprimere un desiderio non è senso è vero c'è bisogno di una chiave per aprirla e questa chiave è Stonebreaker vi ricordo sempre che Thanos è andato dai nani e poteva farsela forgiare ancora prima di Torsi avesse saputo tutto questo cioè semplicemente basta un Bifrost per aprire eternità in secondo luogo ormai il concetto di divinità è confermato ed esaltato sotto ogni punto di vista mi spiego meglio se in Thor 1 e 2 il concetto di Thor come dio era quasi negato c'era Odino che diceva a Loki tu non sei un dio tu nasci cresci e muori e Loki diceva sì 5.000 anni più 5.000 anni meno per far vedere che comunque erano una razza aliena molto potente percepita come divinità dagli antichi norvegesi dagli antichi finlandesi insomma e quindi sono percepiti come dei da noi esseri umani che sono che sono appunto mortali eccetera e questa cosa poteva anche andare bene lo stesso concetto che esista Zeus e che sia un alieno in questo concetto diciamo greco romano e che abbia e che sia stato percepito come divinità appunto se in passato fosse atterrato sulla terra mi sarebbe anche andato bene ma da Thor Ragnarok il concetto di divino è a tutti gli effetti confermato sono chiamati dei sono comunque alieni hanno comunque questa vita molto longeva ma hanno dei seguaci hanno degli adoratori e hanno dei poteri divini che si possono esprimere concepire come il fatto che loro sappiano veicolare la magia esattamente come Doctor Strange senza bisogno di studiarla per anni senza che venga presa da altre dimensioni ma sia intrinseca nella loro persona e senza che siano stati potenziati da manufatti come per esempio Wanda che è stata potenziata dalla gemma della mente per diventare Scarlet quindi gli dei sono esseri molto tangibili che vivono nello spazio ma effettivamente sono percepiti come divinità al punto che la gente come Gor li adora e che ne può venire delusa perché scopre appunto che sono terreni sono molto poco divini da questo punto di vista e vuole sterminare tutti gli dei ma quindi che cos'è un dio perché Gor lo possa macellare è penso qualunque persona che abbia questo tipo di poteri questo tipo di immortalità tant'è che persino Jane Foster viene presa di mira da Gor perché la considera comunque una divinità a tutti gli effetti lei ha brandito Mjolnir e quindi ha il potere di Thor che è un dio francamente avrei preferito vedere questo concetto spiegato un po' meglio invece è tutto buttato spiattellato lì davanti alla pellicola lo stesso la stessa scena con Zeus io speravo che fosse l'Olimpo speravo che ci mostrassero l'Olimpo esattamente come ci hanno mostrato Asgard ovvero come se fosse appunto un pianeta nell'universo e che Thor e Jane andassero ad avvisare il pianeta Olimpo dell'arrivo di Gor e invece c'è questa specie di cittadella degli dei dove tutte le divinità si riuniscono ovviamente in questo modo ci hanno potuto mostrare non solo gli dei greci ma anche tutti i vari dei come appunto la dea vasta che abbiamo visto anche nel trailer o vari dei inventati come quello di di Korg però appunto non ha molto senso che in questa cittadella comandi Zeus cioè perché dovrebbe comandare Zeus cosa cosa fa di Zeus il re degli dei anche delle altre confessioni religiose non ha senso ma francamente se devo guardare tutto quello che non ha senso questa è l'ultima delle problematiche Zeus è a tutti gli effetti la linea comica di questo film come se non ci fosse abbastanza comicità Zeus fa solo una parte comica Zeus è martellone solo che invece del martellone che c'è la Thor ha il saettone buscio del culo fortunatamente si rifà tantissimo nella post credit dove introduce il personaggio di Ercole che non è preso a caso non è Ercole di Xena ma esiste davvero nei fumetti Marvel ora io non so bene la storia degli dei greci inseriti nel contesto dei fumetti Marvel ma presumo che esattamente come gli dei norreni a un certo punto abbiano appurato che esistono e sono tangibili e possono interagire con i personaggi dei fumetti Marvel stessa cosa sarà per Ercole ci sta che lo abbiano anche introdotto così in modo molto superficiale perché è un personaggio molto minore rispetto a Thor e a tutte le divinità non rene che hanno una loro testata ma comunque è molto attivo nel senso ha partecipato è stato parte di una delle formazioni degli Avengers quindi questo Ercole vederlo magari in un prossimo film e per poi unirsi ai nuovi Avengers francamente non mi dispiacerebbe per nulla e aspettatevi comunque un personaggio abbastanza basico come può essere Drax mi piace che lo introducono così in una scena post credit senza troppi spiegoni come hanno fatto un po' con Adam Warlock e sancendo alla fine il concetto che tutti i personaggi che ci sono nei fumetti Marvel possono a un certo punto arrivare di punto in bianco piantati lì in una pellicola perché sì parliamo un secondo di martelli e di armi magiche innanzitutto anche qui il concetto di divino si fa molto strano si fa molto laterale nel senso che a quanto pare Thor ci può stare ha comunque gli stessi poteri di Odino perché vediamo che mentre frequentava ancora Jane Foster quindi mentre Odino era ancora in vita lui ha sussurrato una cosa a Mjolnir e senza volerlo ha siglato un patto con Mjolnir che è considerato da Thor a tutti gli effetti diciamo il suo migliore amico gli ha diciamo chiesto di proteggerla in tutti i modi in questo modo Jane Foster ha potuto impugnare Mjolnir nel momento in cui Jane aveva bisogno di aiuto quindi di essere curata dal cancro curata in un certo senso perché Mjolnir non la sta assolutamente curando però la sta proteggendo finché lei lo impugna ciò nonostante non è assolutamente non ha assolutamente comunque senso che perché Thor riesca a dire questa cosa su Mjolnir riesca anche a insufflare una non so un sortilegio anche su altre armi come su questa Thunder Thunderstorm Thunderbolt non mi ricordo l'arma la saetta di Zeus quando nella scena comunque molto bella in cui sussurra che chiunque impugni l'arma che sta impugnando abbia temporaneamente i poteri di Thor non è assolutamente logico che lui possa dare questo potere anche attraverso la sua saetta così come non spiegano assolutamente nel finale quando Stormbreaker resta in mano a a Gor come sia possibile che la saetta abbia il potere di teletrasportarsi non l'abbiamo visto in nessun momento prima della pellicola lo vediamo solo lì perché c'è bisogno che in quel momento serva esattamente come Jane Foster a un certo punto dalla terra riesca ad arrivare al centro dell'universo con Mjolnir che non ha i poteri di Stormbreaker non apre il Bifrost quindi avrebbe dovuto viaggiare nell'universo non ha assolutamente senso dal punto di vista temporale però nel terzo atto di ogni film si sa che si chiudono sempre un po' di più gli occhi rispetto ai primi due però sti cazzi ragazzi io ho solo due occhi da chiudere non posso chiuderne altri e ci sono tante tante cose che mamma mia sono messe lì proprio perché sì ma siamo in un cartone animato a un certo punto mentre dal punto di vista della diciamo dell'interazione con gli altri personaggi tutta la parte in cui i martelli giocano i martelli asce quello che è giocano un ruolo di gelosia di una sorta di coppie che si scoppiano e si mettono con i rispettivi fidanzati fa ridere un po' all'inizio ma come tutte le cose in questo contesto vengono poi esasperate finché non diventano ridicole risibili abbiamo capito che Stormbreaker funziona male perché risente dell'amore che Thor ha verso la sua vecchia fiamma Mjolnir e questo fa andare avanti la trama perché se no si sarebbero teletrasportati in qualunque secondo invece con questo malfunzionamento di Stormbreaker lo montano sulla nave che è trainata dalle capre che camminano lungo il Bifrost e questo dà il senso del viaggio e fa durare il film un po' di più altrimenti arriverebbero subito al centro della terra ciò nonostante una volta che hanno dato questa spiegazione all'inizio non dovrebbero continuare a rincarare la dose con questa cosa della gelosia perché veramente dopo un po' fa cadere le palle ciò nonostante la scena che ho detto prima quella in cui Thor ha da potere ai bambini in qualunque altro film sarebbe stata assolutamente assurda però siamo arrivati a un punto di sospensione dell'incredulità tale che a quel punto li va anche bene cioè Thor in quel momento della pellicola ha talmente tanto potere che dice vabbè vaffanculo mi godo la scena è comunque bello vedere cioè la scena in sé è bella vedere dei bambini super potenti che hanno il potere di Thor e danno manforte a Thor è anche bello da vedere detto ciò anche qui perché Thor non ha fatto questo prima perché Thor non ha sussurrato una magia tale su Mjolnir su Stormbreaker prima e ha dato a tutti gli Avengers se ha tutti gli Wakandiani il potere di Thor per una battaglia in modo da sconfiggere l'esercito di Thanos più facilmente vabbè non facciamoci domande Thanos è morto non rivanghiamo il passato dal punto di vista audio la colonna sonora mi è piaciuta molto mi piace che Taika Waititi ci metta sempre una sua personale firma dal punto di vista della colonna sonora come abbiamo visto il Ragnarok il Ragnarok era tutto c'era una canzone delle Zeppeling e era tutto con sonorità anni 70 anche abbastanza psichedeliche in Thor Love and Thunder invece ci sono sonorità tipicamente anni 80-90 la colonna sonora è quasi per la maggioranza di di canzoni dei Guns is Rose se tutte le sonorità sono appunto rock metal anni 80 la stessa copertina ricorda un album dei Manoworld allo stesso logo Love and Thunder sembra il logo di una band metal anni 80 mi piace come Taika Waititi ci tenga dal punto di vista musicale a queste cose così come in Jojo Rabbit appunto aveva messo David Bowie e i Beatles tutti rigorosamente cantati in tedesco il finale del film ci sta anche se devo dire che è la terza opera in cui il potere dell'amore che tanto mi dava fastidio nell'ultima stagione di Flash serve a risolvere i problemi e non i cazzotti va benissimo in un film ha già più senso che in ogni singolo episodio di un telefilm però ecco inizio un po' a sentire uno schema che non mi sta piacendo America Chavez in Doctor Strange del Multiverse of Madness con le dolci parole dopo due ore di pellicola riesce a convincere il cattivo a sacrificarsi e diventare buono nell'ultimo episodio di Miss Marvel con le dolci parole Kamala Khan riesce a convincere la cattiva lì dei clandestine a sacrificarsi tra virgolette per suo figlio anche se vabbè magari succederà qualcos'altro nel prossimo episodio adesso in questo in questo Love and Thunder Jane e Thor riescono con le dolci parole d'amore a far convertire all'ultimo minuto il cattivo occhio inizia un po' a essere abusata questa cosa e non lo so se se la apprezzerò tanto in futuro se devo scegliere tra tutti e tre questi esempi questo comunque è quello che mi è piaciuto di più perché un cattivo come Gor che era comunque un padre sofferente che poteva benissimo appunto fin dall'inizio esprimere il desiderio di far tornare in vita sua figlia ma che all'ultimo non l'avrebbe potuta crescere dato che stava morendo lui mi è piaciuto molto questo passaggio di testimoni in cui Thor che ha perso che perderà la sua Jane per il cancro ecco mi è piaciuto anche molto il fatto che non abbiano usato il desiderio per guarire Jane che è morta a tutti gli effetti ed è a tutti gli effetti considerata una divinità perché è morta esattamente come Odino cioè dissolvendosi in polvere di stelle mi piace che questo vuoto che è stato lasciato a Thor per la perdita di Jane Foster sarà colmato appunto dalla figlia di Gor che appunto ha questo vuoto perché ha perso il padre quindi diciamo hanno unito un po' le due famiglie in questo modo e finalmente abbiamo il nuovo Thor il nuovo il passaggio di testimone che pensavamo fosse appunto da Thor a Jane Foster per i nuovi Avengers in realtà non c'è stato con Jane ma con questa bambina che è un po' anonima devo dire però vedremo nel futuro comunque scopriamo che ha i poteri abbastanza forti e ha il punto da brandire Stonebreaker quindi chissà se l'attrice crescerà e Chris Hemsworth si stuferà di fare Thor potrebbe appunto entrare nei nuovi Avengers quindi ci sta sono riusciti comunque a fare il passaggio di testimone che stanno facendo con ogni Avengers della prima ora quindi nonostante tutte queste cose che comunque sono risibili eccetera il film io me lo sono goduto sapevo cosa andava incontro è stato meglio di Ragnarok sì tanto basta per me e comunque ripeto che Ragnarok che mi ha fatto schifo a una prima visione è comunque il film che io guardo di più tra i tre Thor ora i Thor sono quattro vediamo se anche questo film lo riguarderò ogni tanto su Disney Plus grazie per avermi seguito fino a qui so che il video è lunghissimo grazie per aver dato fiducia a un canale così piccolo per aver visto e aver visto fino in fondo la recensione io come sempre con l'inchina e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video grazie per aver guardato grazie per aver guardato